Il Senato degli Stati Uniti ha votato contro il provvedimento per finanziare il governo. Con la votazione ancora in corso, un numero sufficiente di senatori ha respinto la misura rendendo quindi verosimile il temuto shutdown, ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali, la cui scadenza fissata per la mezzanotte e ora locale, le 6 del mattino in Italia. Non si mette bene, ha twittato il presidente Trump poco prima dei lavori del Senato. Non si mette bene per i nostri ottimi militari o per la salvaguardia e la sicurezza della nostra pericolosa frontiera sud. I DEM vogliono lo shutdown per sminuire il grain successo dei tagli alle tasse e ci che comportano per la nostra economia in crescita. Scrive Trump su Twitter, quattro senatori DEM hanno affossato il provvedimento e il senatore democratico Doug Jones è eletto a sorpresa a dicembre in Alabama sconfiggendo il repubblicano Roy Moore. Ha rotto la linea dettata dalla leadership del suo partito e votato a favore della legge e di bilancio per il governo e contro quindi lo shutdown dell'amministrazione federale. La stessa decisione è stata presa da altri 3 DEM. A Itkamp, Nord Dakota, Donnelly, Indiana, Emanchin, West Virginia, G.A.P.C.O. nei sondaggi. Trump chiude il suo primo anno di presidenza con un imbarazzante shutdown. Ossia la chiusura degli uffici amministrativi federali. Partendo da quelli meno essenziali. Sarebbe il primo presidente con un partito che controlla entrambi i rami del Parlamento. L'ultima serrata obbligata. Durata 16 giorni. Si verifica nel 2013. Quando i repubblicani tentarono di cambiare l'Obamacare. Ora sono i democratici sulle barricate. Perce non stato raggiunto un accordo sui Dreamer dopo che Trump ha cancellato il programma di Obama per la loro protezione. Dacca. N su altre loro priori. Come il rinnovo della copertura sanitaria per 9 milioni di bambini. CIP. E' stato comunque lo stesso Trump a compromettere i negoziati bipartisan per una legge di bilancio. A lungo termine che doveva contemperare le sue priori. Muro. Riforma dell'immigrazione. Con quelle dei Dem. Dreamer. A far saltare tutte sono state le sue reazioni ad una bozza di accordo. Quando stato accusato di razzismo per il disprezzo manifestato verso gli immigrati da certi cessi di paesi. Come hanno riferito alcuni deputati democratici presenti. Un episodio che ha fatto crollare ogni fiducia reciproca trasformando il dialogo sullo shutdown in un vero e proprio shutdown in un paese sempre più diviso e polarizzato.